Forza Viola e buona domenica! In una domenica dove la nostra Fiorentina non gioca perché giocherà domani sera contro l'Atalanta, ovviamente noi oggi ci dedichiamo al giorno prima, al giorno prima di Fiorentina-Atalanta. Partita molto difficile, una partita che avrei preferito forse giocare contro un'altra squadra, vi dico la verità, però è giusto anche affrontarle tutte. La Fiorentina ha il grande merito di arrivarci con l'entusiasmo alle stelle, quindi io dico va bene così, affrontiamo l'Atalanta, affrontiamola muso duro, affrontiamola con rispetto, ma soprattutto proviamo a vincere perché l'atteggiamento deve essere quello. Ragazzi vi invito subito a seguire gli amici di Space Viola qua sotto il link in descrizione, ovviamente se vi va seguite anche me Andrea Marino, Mister Viola per parlare di Fiorentina, Instagram e Facebook li trovate qua sotto i miei due link. Ovviamente qua su Youtube dove ovviamente carico i miei contenuti, se vi va iscrivetevi al canale. Allora ragazzi domani Fiorentina-Atalanta, partita molto difficile, devo dire la verità, l'Atalanta anche se quest'anno è una squadra altalenante, è una squadra difficile, è una squadra piena di talenti, è una squadra che comunque ha un allenatore che per quanto si voglia dire a Firenze, Gasperini, Gaspariaccio, quello che volete, è un allenatore che ha ricominciato un po' da capo questo nuovo percorso che l'Atalanta ha iniziato secondo me da quest'anno. Perché l'anno scorso il non accesso alle competizioni europee hanno un po' azzerato quello che poteva essere l'Atalanta, quest'anno mi aspettavo un'Atalanta un pochino più incisiva in campionato, invece molto spesso ha alternato belle prestazioni a brutte prestazioni, a vittorie meritate e a sconfitte meritate. Quindi mi aspetto un'Atalanta domani in versione ovviamente vogliosa di ripartire, di ricominciare, comunque sono là, il treno europeo, loro ci sono dentro, in questo momento occupano la settima posizione. La Fiorentina, d'altro canto, l'Europa se la sta già giocando, nel senso la sta giocando in questo momento, se la può andare a conquistare con un trofeo. C'è la Coppa Italia che ti consente di poterti giocare un biglietto in finale per l'Europa League, ma in più ti consente anche di andare a giocarti le Final Four della Supercoppa Italiana. La Conference League, idem con patate, ti consente di strapparti un biglietto all'Europa League. Quindi è vero che in campionato io ho sempre invocato la salvezza perché avevo la mia paura, era quella poi di dover perdere punti in campionato per andare avanti nelle competizioni delle coppe. Invece la Fiorentina, devo dire, con 13 risultati utili consecutivi, perché sono 13 ragazzi, e speriamo ovviamente domani di staccare il biglietto del 14esimo risultato utile consecutivo, domani affronta una squadra difficile. Là davanti ci sono giocatori importanti, lo sappiamo. Zapata sembra recuperato, c'è questo ragazzo, o Yundo, o Ayoand, insomma chiamatelo come volete, che diciamoci la verità, ci ricorda un po' il Vlaovic che avevamo noi, insomma in molti lo stanno paragonando a un centro avanti, secondo me è molto forte, devo dire la verità, è un giocatore che a me piace tantissimo, è ancora molto giovane. E poi c'è Bogat che sembrava dovesse venire da noi, invece poi l'Atalanta se l'è tenuto stretto, però, insomma, è un'Atalanta che merita rispetto, non paura, ok? Rispetto di tutti, paura di nessuno. È uno degli slogan, degli hashtag ragazzi che devono ben stamparci in testa a noi tifosi della Fiorentina perché come non mai quest'anno non dobbiamo avere paura di nessuno. Ulteriore partita dopo tre giorni, l'Italiano l'ha detto, è difficile preparare le partite ogni due giorni, rispettiamo molto l'Atalanta, è un'Atalanta piena di qualità, è una realtà del calcio italiano e del campionato italiano, questo è vero, dobbiamo riconoscere ovviamente all'Atalanta e ai Bergamaschi. Allo stesso tempo però vi dico che secondo me anche la Fiorentina è una realtà di questa stagione che sta portando in una maniera eccelsa perché molto spesso non se ne parla. Io a volte guardo i telegiornali sportivi, Sky, quello che volete, si parla tanto di tutti ma si parla poco di Fiorentina. Nessuno sta sottolineando il fatto che la Fiorentina comunque in Conference League sta per andare in semifinale, nessuno sta dicendo che la Fiorentina sta per andare in finale, nessuno sta dicendo che la Fiorentina comunque in campionato è lì, è a sette punti, è a sei punti, insomma comunque siamo là. Due o tre risultati utili, due o tre risultati sbagliati delle altre squadre ti ritrovi là, nessuno lo sta dicendo. Ma non lasciamoglielo dire, però portiamogli il conto a fine stagione, ecco questo è il conto da pagare. Non ci ha mai parlato, però adesso tu paghi il conto. No, io mi toglierai questa grande soddisfazione. Domani l'italiano farà dei cambi, è normale. Non tanto dei cambi in quanto paura di non passare il turno con l'Eck Posnero perché secondo me il 4-1 ti deve portare a, e soprattutto rigiocare il ritorno in casa, ti deve portare a dedicarti soltanto alla sfida con l'Atalanta. Quindi mi aspetto dei cambi più che altro funzionare a livello fisico. Mi piacerebbe rivedere nuovamente Brecalo in campo, vi dico la verità, perché Brecalo mi sembra che abbia veramente tanta voglia, molto a più di Sottil, in quanto secondo me Sottil ha bisogno di quel guizzo, non si è ancora acceso perché ha bisogno di quel quid. Quindi mi piacerebbe rivedere Brecalo in campo, mi piacerebbe ovviamente rivedere Gonzales e poi magari risparmiarlo. In una settimana in cui ho visto un Napoli disastroso, un Milan imbarazzante, ho visto un Inter che vabbè lasciamo perdere, insomma tutte le squadre che comunque stanno giocando la Champions, ci mancherebbe altro, vanno a fallire. Dei tour di campionato paradossalmente facili sulla carta, non che il calcio ormai sia diventato facile per nessuno perché le squadre materasso non esistono, noi dobbiamo affrontare una grande squadra, una realtà del campionato che ci metterà in difficoltà. Siamo stati la bestia nera a vicenda, se ci pensate bene, la bestia nera è stata l'Atalanta per un periodo per la Fiorentina, la Fiorentina è stata una bestia nera per l'Atalanta per un altro periodo, insomma siamo due squadre che secondo me forse hanno qualcosa in comune, non lo so, hanno quella voglia comunque di esserci. Ecco la Fiorentina c'è e io credo che domani ci sarà la Fiorentina e ci sarà tanto grande lo stadio della Fiorentina che trascinerà la Fiorentina in questa competizione. Io gli ho difesi sull'1-1 con lo Spezia, l'ho detto subito, il primo che dice che si lamenta qua e là non ha capito niente, è una squadra che in questo momento sta facendo gli straordinari, non voglio dire che Poerini diamogli le carezze perché gioca a pallone, sono d'accordo con voi, però è una squadra che sta andando avanti e indietro in Europa, praticamente ogni sei giorni c'è un viaggio internazionale, si allena soltanto due volte prima di una partita se gli va bene, quindi secondo me domani l'italiano l'ha detto, è difficile fare le partite in due giorni, faremo dei cambi perché è normale fare dei cambi, González è informissima, è stra-informa, quindi io mi aspetto una formazione titolarissima in campo, paradossalmente mi riaspetto al netto degli squalificati e degli indisponibili una formazione più forte possibile, senza pensare all'Ec-Posna, poi finita la partita all'Atalanta penseremo all'Ec-Posna, perché partendo da un 4-1 non ti puoi precludere di mettere in campo la tua formazione migliore, questo è quello che penso io, poi il campo darà ragione o a destra o a sinistra, l'importante è esserci, io sono convinto che la Fiorentina ci sarà, ma soprattutto ci sarà quella voglia di scendere in campo e provare a portarsi a casa un ulteriore risultato utile consecutivo, che sia un pareggio, che sia una vittoria, l'importante è scendere in campo e portare in alto i nostri colori e io sono convinto che domani la Fiorentina lo farà. Ragazzi, ovviamente vi aspetto domani attivissimo sul mio canale di Instagram, quindi vi rinvito ovviamente anche a seguirmi là, dove ovviamente con voi vivrò le emozioni della partita e poi come sempre qua su YouTube per parlare del post partita. Come sempre ragazzi, forza Viola, come non mai in questo periodo.